Che cavolo ci fa quel coso nella mia inquadratura? Capitano Stasi, c'è un cortocircuito, non riescono a fermarla. Chiamala con Edison al telefono, che tolgano la corrente a tutto il palazzo. Non basta. Eccola di nuovo! Oddio! Oh mio Dio, è Gwen! Com'è? Ma che ci fa lassù? Non lo so, l'ho vista ieri sera, doveva fare delle foto. Ma lei chi è? Sono Brock, signore. Edward Brock, junior. Lavoro al Daily Bugle. Esco con sua figlia. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Oh mio Dio! Tutto ok? Sì. Sto bene. Grazie. Ehi, Spider-Man, aspetta! Al bugle serve una foto. Grazie a Dio sei salva. Papà! Ehi, sono quello nuovo. Quello nuovo? Esatto. Va proprio bene. D'ora in poi sarò io a farti le fotografie per il giornale. Quindi, sorridi. Stai sorridendo? Scherzo, eh? Ce l'hanno, un fotografo. Chi? Parker? Senti, detto fra me, te... Ma è un dilettante, in fondo. Hai notato che nelle sue foto sei... Bolso? Ehi, è tarchiato. Ma adesso non ti devi più preoccupare, bello! Dio sei... Grazie a tutti.